In fondo alla chiesa vedo sul piazzale che ci sono delle persone, ma potete anche invitarle ad entrare perché abbiamo il posto, quindi non ci sono problemi. Non ha senso che stiano fuori sul piazzale. E ci alziamo per l'inizio. Prendiamo il canto numero 268. Spirito sento, tu che santifichi e liberi l'uomo, dacci il coraggio di proclamare il tuo amore che salva. Spirito santo, tu che santifichi e liberi l'uomo, dacci il coraggio di proclamare il tuo amore che salva. Tu sei come il fuoco acceso per rischiarare e illuminare il mondo. Tu sei la luce che ci rivela l'amore del Padre. Tu ci apri gli occhi per riconoscere il volto di Cristo. Spirito santo, tu che santifichi e liberi l'uomo, dacci il coraggio di proclamare il tuo amore che salva. Libero sei come il vento, sei l'acqua viva che ci dà la vita. sei la presenza di Dio che agisce, che ama e che salva. Tu sei la forza che ci rinnova e trasforma il mondo. Spirito santo, tu che santifichi e liberi l'uomo, dacci il coraggio di proclamare il tuo amore che salva. Noi per te riceveremo la libertà che il Padre dà ai Suoi figli. Dalla paura e dal peccato ci hai liberato. Quella paura che ci divide e ci tiene schiavi. Spirito santo, tu che santifichi e liberi l'uomo, dacci il coraggio di proclamare il tuo amore che salva. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Benvenuti cari genitori, cari padrini, cari madrine, cari amici dei nostri ragazzi per condividere questo momento per loro molto importante. Ringrazio i genitori che per diversi anni hanno accompagnato i loro figlioli al catechismo ma anche alla conoscenza della comunità e alla messa della domenica. Ora, ragazzi, siete pronti? Facciamo un applauso per questi ragazzi. Siete pronti a camminare con il vostro cuore, la vostra mente, con i buoni consigli dati dai genitori e con quello che avete appreso dei vostri catechisti, che anche ringrazio per la loro generosità. E oggi si conferma tutto quello che voi avete intuito di importante per il percorso cristiano. Chiediamo al Signore proprio che vi accompagni. Cristo, tu che sei la nostra speranza e lei sono. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Concedi, Dio onnipotente misericordioso, che lo Spirito venga ad abitare in noi e ci trasformi in Tempio della Sua gloria. Te lo chiediamo per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Grazie, grazie. Dal libro del profeta Gioele, voi figli di Sion, rallegratevi, giuite nel Signore vostro Dio, mangerete in abbondanza a sacietà e loderete il nome del Signore vostro Dio, che in mezzo a voi ha fatto meraviglie. Voi riconoscerete che io sono un mezzo ad Israele e che sono io il Signore vostro Dio e non ce ne sono altri. Mai più vergogna per il mio popolo. Io affonderò il mio spirito sopra ogni uomo e diverranno profeti i vostri figli e le vostre figlie. I vostri anziani saranno sogni. I vostri giovani avranno visioni. Anche sopra gli schiavi e sulle schiave in quei giorni effonderò il mio spirito. Farò prodigi nel cielo e sulla terra. Parola di Dio. Prendiamo grazie a Dio. Mia forza e mio canto è il Signore D'Israele in eterno Il Salvatore Insieme Mia forza e mio canto è il Signore D'Israele in eterno è il Salvatore Benedici il Signore Signore, anima mia Signore, mio Dio, quanto sei grande Quanto sono grandi, Signore, le Tue opere Tutto hai fatto con saggezza La terra è piena delle Tue creature Mia forza e mio canto è il Signore D'Israele in eterno è il Salvatore Tutti da te aspettano Tutti da te aspettano Che dia loro il cibo in tempo opportuno Tu lo provvedi, essi lo raccolgono Tu apri la mano, si saziano di beni Mia forza e mio canto è il Signore D'Israele in eterno è il Salvatore Mandi il tuo Spirito, sono creati E rinnovi la faccia della terra La gloria del Signore sia per sempre Gioisca il Signore delle sue opere Mia forza e mio canto è il Signore D'Israele in eterno è il Salvatore Voglio cantare al Signore Voglio cantare al Signore finché ho vita Cantare al mio Dio finché esisto A Lui sia gradito il mio canto La mia gioia è nel Signore Mia forza e mio canto è il Signore D'Israele in eterno è il Salvatore D'Israele in eterno è il Signore Dagli Atti degli Apostoli Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire Gli Apostoli si trovavano tutti insieme nello stesso luogo Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte Gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. Ed essi furono pieni di Spirito Santo, e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Si trovavano allora in Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. Venuto quel fragore, la folla si radunò e rimase sbigottita perché ciascuno li sentiva parlare la propria lingua. Allora Pietro, levatosi in piedi con gli altri undici, parlò a voce alta così. Uomini di Giudea, e voi tutti che vi trovate a Gerusalemme, vi sia ben noto questo, e fate attenzione alle mie parole. Gesù di Nazareth, uomo accreditato da Dio presso di voi, per mezzo di miracoli, prodigi e segni, sapete dopo che, secondo il prestabilito disegno e la prescienza di Dio, fu consegnato a voi. Voi l'avete inchiodato sulla croce per mano di empi e l'avete ucciso. Questo Gesù, Dio l'ha risuscitato e noi tutti ne siamo testimoni. Innalzato, pertanto, alla destra di Dio, e dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito Santo che egli aveva promesso, lo ha effuso, come voi stessi potete vedere e udire. Parola di Dio. Prendiamo grazie a Dio. Prendiamo l'Alleluia al numero 10. Alleluia, 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 gloria al Signor. Alleluia, 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 gloria al Signor. Gloria al Signor, alleluia, gloria al Signor, alleluia, gloria al Signor. Vieni, Santo Spirito, riempi il cuore dei Tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Il Signore sia con voi, dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, poiché una grande folla si radunava e accorreva a Gesù da ogni città, Gesù disse questa parabola. Il seminatore uscì a seminare la sua semente. Mentre seminava, parte cadde lungo la strada e fu calpestata, e gli uccelli del cielo la divorarono. Un'altra parte cadde sulla pietra e appena germogliata in aridì per mancanza di umidità. Un'altra cadde in mezzo alle spine e le spine, cresciute insieme ad essa, la soffocarono. Un'altra cadde sulla terra, sulla terra buona, germogliò e fruttò cento volte tanto. Detto questo, Gesù esclamò «Chi ha orecchie per intendere, intenda». I Suoi discepoli però lo interrogarono sul significato di questa parabola e Gesù la spiegò così. Il seme è la parola di Dio. I semi caduti lungo la strada sono coloro che l'hanno ascoltata, ma poi viene il nemico e porta via la parola dai loro cuori, perché non credano e così siano salvati. Quelli sulla pietra sono coloro che quando ascoltano accolgono la parola e lo accolgono con gioia, ma non hanno radici. Sì, credono per un certo tempo, ma nell'ora della tribolazione vengono meno. Il seme caduto in mezzo alle spine è segno di coloro che, dopo aver ascoltato la parola, strada facendo, si lasciano sopraffare dalle preoccupazioni, dalla ricchezza, dai piaceri, e non giungono a maturazione. Invece, il seme caduto sulla buona terra è segno di coloro che, dopo aver ascoltato la parola, con cuore buono e perfetto la custodiscono e producono frutto con la loro perseveranza. Parola del Signore. Lode a Te, O Cristo. Alleluia, 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 Spirito e Amor. Alleluia, 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 Spirito e Amor. Spirito e Amor, alleluia, Spirito e Amor, alleluia, Spirito e Amor, alleluia, Spirito e Amor. I ragazzi vengono davanti per la predica. Potete sedere voi? Grazie che siete venuti tutti, eh? Genitori, padrini, madrine, amici e parenti. Quelle persone che sono fuori, se vogliono, possono entrare. C'è ancora un po' di posto qui, ma io non so come fare ad avvertirli. Ecco, sarebbero benvenuti i poveri fuori e freddo. Bambini, come va la vita? Ragazzi, come stiamo? Allora, io anzitutto vi ringrazio, perché avete frequentato con serietà questi anni del Catechismo, avete fatto bene l'esame, perché abbiamo fatto l'esame, non so, in altre parrocchie gli esami non si fanno più, anche nella scuola gli esami si fanno circuncirca. Noi invece siete stati contenti degli esami o no? Sì o no? Dite la verità. Non ho sentito niente io. Sì o no? Sì, poco, sì, così. Va bene. Io invece sono stato contento di come avete risposto e di come vi siete anche preparati. Adesso è il momento importante, dove, come dicevamo prima, non è un rito ma è un sacramento, è un segno del Signore Gesù per noi. I vostri genitori vi hanno portato al battesimo, hanno dato la loro parola alla Chiesa. Per quanto noi possiamo, noi cercheremo di far conoscere la fede cristiana. e lo hanno fatto. Facciamo un applauso ai genitori. Eh sì, eh. Lo hanno fatto. Poi i genitori vi hanno portato alla comunità. I catechisti hanno fatto il loro dovere. E ora voi siete qui. Perché volete che il vostro battesimo sia confermato dalla vostra volontà. Vero? E possiate viverlo il battesimo. La parabola che abbiamo sentito oggi del seme, no? Gesù parlava in modo molto semplice. Eh? Diceva le cose che la gente poteva capire. Noi non siamo in campagna, siamo in città. Parlare del seme, beh, se qualcuno ha un giardino, se ha un ballatoio, o se c'ha un terrazzo, c'ha dei fiori o no. E si possono mettere anche dei semi. Ecco, ma i semi vanno messi in un terreno adatto. E voi siete il terreno adatto. Sì? Perché avete dimostrato in questi anni che vi interessa conoscere la nostra fede. Che vi interessa anche metterla in pratica con papà e mamma, a scuola, con i vostri amici. Ora voi sapete che la vita ha tanti risvolti, no? E quindi qualche volta ci possono essere dei momenti di fatica. Sì o no? Allora, anche in questi momenti di fatica il nostro seme, cioè la nostra fede deve portare nel nostro cuore non altro che la serenità. la fede ci dà proprio questa serenità. Cioè che noi non siamo abbandonati. Beh, lo potete vedere, i vostri genitori, ma anche nel crescere come cristiani non siamo abbandonati. Il sacramento del perdono se qualche volta sbagliamo. Tutti sbagliamo, eh? Lo dice anche il Papa, dice io sono un pecatore, non vado ad abitare là, ho bisogno di sentirmi coinvolto dai buoni esempi. Ecco, anche noi abbiamo bisogno di essere coinvolti dai buoni esempi. Eh? Che trovate in casa, ma che trovate anche fuori. Che trovate anche a scuola, trovate nello sport, trovate anche nella comunità cristiana. Ma questi non bastano, sono buone intenzioni. no? Abbiamo bisogno però che la nostra volontà decida di fare il bene. Sì o no? Non basta che voi desideriate di andare a scuola. Tu desideri di andare a scuola. onesto, bravo, sei un bravo figlio. Ecco, ci si, beh, dipende. Oggi che non c'è sei contento, no? Ecco bene. Boh. Però bisogna volere andare a scuola. Ma per volere andare a scuola bisogna prendere lo zainetto, no? Adesso avete tutto lo zainetto. uscire dalla porta, non so se vi porta il papà e la mamma o se prendete il bus e recarvi a scuola. Volontà e azione. È così per la vita cristiana. Voi mi avete detto che volete essere buoni cristiani e sono sicuro che me l'avete detto con tutto il cuore. però bisogna cominciare a prendere lo zaino, uscire dalla porta, andare nel mondo. E lo zaino è, sapete cos'è lo zaino? Il patrimonio dei dieci comandamenti. Quanti sono i dieci comandamenti? Sono dieci. Eccoci. Questo è lo zaino dei dieci comandamenti. Ora bisogna vedere un po' tre riguardano Dio, sette riguardano il prossimo. E direi come possiamo metterli in pratica? Come possiamo metterli in pratica? E non basta la volontà. Ci vuole anche una forza, no? Per andare a scuola dobbiamo volere uscire, camminare o prendere il bus. E questi, con rispetto, sono i mezzi della preghiera. E soprattutto i sacramenti, l'eucaristia, sacramento del perdono e le preghiere mattino e sera. Io vi dico e vi chiedo una cosa, una cosa sola, che dovete essere leali di fare oggi per tutta la vita. Ma è breve, breve. di fare il segno della croce al mattino e alla sera. Ve lo promettete? Sì? Leo, vieni qua. Adesso vediamo quanto tempo ci vuole per fare un segno. Chi ha un orologio? Io. No, Tino. Ma chi ha un orologio? I padrini non aveva regalato un orologio a questi fioi. Oh la miseria, siete tutti genovesi qua, c'è. No? Chi c'è uno? Federico, c'è l'orologio? Rotto. Oh signora. Vediamo qua se c'è qualche padrino. Lei c'è l'orologio, signora. Oh là. Ti do tu, ti c'è un orologio. Ti raffredo. Adesso vediamo quanto tempo, quanto tempo per fare un segno della croce a mattino e sera. Al tre tu cominci Leo, eh? E ti te guardati. Uno, due, tre, vai. Quanto? Due secondi. Bravo Leo, vai a posto. Vogliamo dare a Dio due secondi? al mattino, alla sera? Eh? Due secondi. Appena uscite dal letto, il mio gattino se lo fa, se lo dico, lo facciamo da su, la mattina, voi fatelo meglio. E alla sera, prima di dormire. E cosa mettete dentro in questa grande preghiera? Signore, benedici me, la mia famiglia, e si sulla mia strada. Questo è? l'impegno che io vi chiedo per la cresima. Davanti a tutti. Volete farlo? Cominciamo da Lui. No? Sì o no? Vuoi fare il segno della croce a mattino e sera? Non ho sentito niente. Ti? Tu? 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 Tutti hanno detto sì. genitori, aiutate questi bambini a fare il segno della croce mattino e sera. Non vi chiedo altro. Direte, che poche cose della cresima. Sono le poche cose che abbiamo detto stamattina ai ragazzi. c'è un Vangelo che ci diceva di amare i nostri nemici e la prima parte diceva che la cosa più importante è non dare risposta cattiva a chi ti fa del male. Allora abbiamo detto tuo palazzo quanti 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 piani ha? Quattro piani. Bene. Quarto piano è amare il prossimo e amare anche i nemici. Io faccio difficoltà voi siete santi arrivate subito. Ma stiamo al primo piano. Allora segno della croce. Alto impegno e poi finito. Non rispondere mai al male con il male. È il primo piano. Se noi già facciamo questo bambini ragazzi e noi adulti abbiamo già guadagnato il 50%. Cominciamo a fare primo piano poi arriveremo anche al quarto e al quinto essere capaci di amare anche chi non ci ama. Ma prima di tutto ricordatevi l'impegno l'impegno della prima comunione che era quello di venire a messa la domenica quando potevate. perché se i genitori non vi portano per la cresima segno della croce. Ma anche non rispondere al male con il male. D'accordo? però Gesù ci dice che dobbiamo chiedere se uno io domando a lui perché mi hai fatto del male. Gesù davanti al tribunale del Sinedrio quando ha preso uno schiaffo gli ha detto non gli ha porto l'altra guancia a noi dice di porgere l'altra guancia ma lui ha detto se io ho parlato male dimmi dove ma se io ho parlato ho fatto bene riconosci perché mi perseguiti perché mi picchi così dovete fare voi ragazzi se uno vi fa del male dovete rispondere ma senti cosa ti ho fatto io? e se quello fa il bullo lasciate perdere ma in un altro momento dite senti se ho sbagliato dimmi dove ho sbagliato ma se ho fatto bene perché tu devi farmi del male? ecco le due cose i due ricordi che io vi lascio alla cresima segno della croce mattina e sera ci sono tante persone ragazzi che vanno all'università che passano di qui io vedo quasi tutti fare il segno di croce eh? perché ieri il Milan ha pareggiato? perché nessuno ha fatto il segno di croce eh sì è proprio così perché nessuno ha fatto il segno di croce te lo dico io eh non li ho visti bene ma queste sciocchezze sono ma i ragazzi dell'università e adesso delle medie che passano di qua molti fanno il segno di croce hanno imparato a casa anche voi e allora rispondete mai al male con il male se potete domandate ragione perché vi hanno detto brutte cose e se no ragazzi non rispondiamo mai male per male questo è il primo passo per arrivare ad essere veri cristiani cioè avere nel cuore sempre l'amore di Dio e l'amore del prossimo questo io chiedo allo spirito del Signore che porti nel vostro cuore questa serenità e questo impegno due impegni quale? segno della croce? ecco e non rispondere male con il male se fate questo siete già a metà in paradiso siete già pure essendo sulla terra siete già metà in paradiso grazie come la pioggia e la neve scendono giù dal cielo ogni mia parola stiamo per entrare nel cuore della celebrazione e del sacramento della confermazione che è caratterizzato da tre momenti il rinnovo delle promesse battesimali che professano la fede in Dio e nella Chiesa e l'impegno a fuggire ogni realtà di male l'imposizione delle mani gesto attraverso il quale viene invocato su tutti e su ciascuno lo spirito paraclito la crismazione il momento in cui il celebrante traccia una croce sulla fronte di ciascun cresimando con il sacro crisma che è olio l'elemento che serviva per l'unzione di coloro che all'interno della comunità ricevevano con un mandato specifico misto a balsamo un guento profumato simbolo delle virtù cristiane con questo gesto e mediante le parole pronunciate il celebrante ratifica e conferma l'impegno a voler essere testimoni autentici e credibili del progetto cristiano per essere così partecipi della costruzione del regno di Dio intorno a noi eccoci adesso tocca a voi rispondere che siete disposti a rinunciare ad una vita dove non c'è né amore di Dio né amore del prossimo è la prima vostra risposta a rinuncio e poi sottolineiamo che crediamo in tutto ciò che la Chiesa crede questo è un momento importante dove voi esprimete la vostra volontà fratelli e sorelle rinunciate al maligno e a tutte le sue opere e seduzioni rinuncio fratelli e sorelle credete in Dio Padre Onnipotente creatore del cielo e della terra credo credete in Gesù Cristo su unico figlio nostro Signore che nacque da Maria Vergine morì fu sepolto e risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre credo credete nello Spirito Santo che Signore dà la vita e che oggi per mezzo del Sacramento della Confermazione e in modo speciale a voi conferito come già agli Apostoli nel giorno di Pentecoste credo credete nella Santa Chiesa Cattolica la comunione dei Santi la remissione dei peccati la risurrezione della carne e la vita eterna credo fratelli e sorelle questa è la nostra fede questa è la fede della Chiesa e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù nostro Signore amén noi crediamo in Te oh Signor noi speriamo in Te oh Signor noi amiamo Re oh Signor Tu ci ascolti oh Signor fratelli e sorelle preghiamo Dio Onnipotente per questi Suoi figli Egli che nel suo amore li ha rigenerati alla vita nuova mediante il battesimo e li ha chiamati a far parte della sua famiglia che è la Chiesa ora effonda lo Spirito Santo che li confermi con la ricchezza dei Suoi Santi Doni e con l'unzione crismale li renda così pienamente conformi a Cristo suo unico Figlio rimaniamo in silenzio un silenzio orante affidiamo a Dio questi nostri ragazzi che hanno un cuore bello pulito che hanno pensieri e sentimenti di serenità e bontà che il Signore proprio ti custodisca così e siano per me e per voi anche buoni esempi di vita cristiana Dio onnipotente Padre del Signore nostro Gesù Cristo che hai rigenerato questi Tuoi figli dall'acqua e dallo Spirito Santo liberandoli del peccato con il Battesimo ora infondi in loro il Tuo Spirito Paraclito Spirito di sapienza e di intelletto Spirito di consiglio e di fortezza Spirito di scienza e di pietà e riempili dello Spirito del Tuo Santo Timore Te lo chiediamo O Dio per Cristo nostro Signore Amen Tommaso ricevi il Sigeno dello Spirito Santo che ti ha dato il Buono la pace sia con Grazie a tutti. 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 Nostro Signore. Grazie a tutti. 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 per voi. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Andate in pace. Grazie a tutti. 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 e a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.